E siamo allo sport calcio, si è tenuta questa mattina l'assemblea di Lega Pro che è stata convocata in via straordinaria per l'elezione suppletiva di un nuovo consigliere federale. Bene, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani è stato eletto nuovo consigliere federale con 28 voti favorevoli, 18 i voti per il presidente Gianfranco Andreoletti dell'Albinol F2, le schede nulle. È stata accolta con larghissimo favore anche la proposta di utilizzo del VAR nei play-off e play-out della corrente stagione. I rappresentanti dei 60 club hanno poi esaminato e discusso il documento federale di riforma mostrando grande sensibilità verso il tema della sostenibilità economica, ribaditi i principi attuali per quanto riguarda l'inserimento delle seconde squadre. Intanto la squadra continua ad allenarsi in vista del confronto interno con la Lucchese, continuiamo a parlare del Pescara. Sabato con inizio alle 16.15 sarà la prima da responsabile tecnico della prima squadra per Giovanni Bucaro dopo l'addio per motivi di salute di Zdenek Zeman che questa mattina è stato dimesso dalla clinica Pierangeli dove lunedì scorso si era sottoposto ad un complesso intervento chirurgico. News dal campo, Merola recuperato, fastidio muscolare oggi per Filippo Pellacani che domani mattina verrà rivalutato. Probabili scelte a centrocampo Dagasso, il rientrante Aloy e uno tra Tugnob e Franchini favorito l'Estone davanti. Merola Cuppone e Meazzi nel tridente d'attacco dunque l'ex Entella dovrebbe agire da finto esterno. Nella Lucchese fuori per squalifica il capitano Tiritiello Lucchese che è allenata dall'ex giocatore della Pescara Giorgio Gorgone che ha indossato la maglia biancazzurra, la maglia del Delfino, nella stagione 2003-2004 per essere ancora più precisi. Da gennaio a giugno 2004 16 presenze ed un gol.